ciao ragazzi ragazze in everything in between sono sempre la vostra Elena Elena Tione healthy life coach la vostra mind body mindset manifestation coach e trainer faccio velocissimo pop up semplicemente per ricordarvi che oggi è l'ultimo 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 giorno oggi è l'ultimo giorno per approfittare di prendervi la mia masterclass incantesimo crea e mantieni la tua partnership perfetta al middle price a soli 157 euro per quattro moduli di corso oltre 31 video lezioni tre inedite medivisual e molto molto altra ancora gettiamo le basi per la regolazione del sistema nervoso autonomo che è il punto su cui tutti cadono quando entrano nella manifestazione intenzionale consapevole della propria persona specifica e vogliono utilizzare la legge di assunzione come se fosse una pilola magica da sparare su tutto e ottenere tutto così e by the way fantabombastico sei il tuo caso sto facendo l'happy dance for you allora come mai ci sono così tante persone compreso chi vuole insegnare ad altri la legge di assunzione che non riescono a manifestare continuità nelle proprie relazioni manifestano qui manifestano lì eventi per sé anche fantabombastici nulla che dire e poi tutto fa come una bolla di sapone che sparisce nel nulla e se fosse che la chiave della manifestazione in modo healthy sano fosse stata sotto il tuo naso tutto questo tempo che cosa che facciamo tutti continuamente tutti i giorni senza nemmeno accorgercene usiamo tutto il nostro sistema nervoso la nostra mente il nostro corpo le nostre emozioni le nostre sentizioni le nostre intuizioni i nostri stati interni per manifestare per vivere per fare la vita che facciamo di solito e questo si chiama essere incarnati in un'identità ed è esattamente il pezzo mancante del puzzle che così tanti metodi di manifestazione in genere si insegna a visualizzare in modo chiaro a fermare esattamente il punto di quello che vuoi e questi sono metodi fantabombastici che però se funzionassero in sé per se stessi ancora una volta non saremmo qui che cosa ne pensi che cosa ne dici invece di incarnare completamente a 360 gradi lo stato del desiderio realizzato perché lo stato del desiderio realizzato il wishful field tanto decantato è così spiegato anche dal stesso Neville richiede embodiment mind body spirit practices quello che io insegno da oltre dieci anni per le persone colpite da sintomi cronici vedo tante persone rimanere bloccate nei loro percorsi per manifestare la propria persona perché rimangono intrappolate nella mente logica rimangono intrappolate nelle pure affermazioni e dopo un po si stancano di utilizzare le affermazioni perché perché non è naturale non è quello che facciamo naturalmente se sono in una relazione quando sono entrata in una relazione è che tutte le volte ho fermato sono nella relazione ora sono nella relazione ora sono nella relazione ora semplicemente decidevo e poi non ci pensavo più e veniva tutto in automatico perché avevo incarnato quello stato e una volta è più che sufficiente ed è quello che l'astra gran maggioranza delle persone non comprende ed è per quello che rimane bloccata in questo modo il sistema non sa più che cosa deve fare e per conseguenza la tua persona ti dirà mi sento confuso mi sento confusa in certi momenti mi sento così altri momenti mi sento cosa dimmi se è anche il tuo caso la vera creazione intenzionale consapevole richiede embodiment incarnare la persona che ha già quella cosa è una persona che ha già quella cosa lo vive tridimensionalmente non sta a fare affermazioni tutto il giorno tutti i giorni è un'affermazione vivente è un'affermazione incarnata va oltre la mente logica e va oltre il ripetere delle frasi e non fraintendermi perché le affermazioni robotiche sono potentissime infatti le affermazioni robotiche dello stato del desiderio realizzato avvengono automaticamente quando incarni visceralmente lo stato della persona che ha la tua manifestazione significa che devi integrare i tuoi pensieri le tue sensazioni le tue sensazioni fisiche le tue sensazioni i suoi stati d'animo le tue certezze le tue convinzioni per diventare la persona che ha già fatto desiderio con tutti i toni della realtà come insegnava neville questa è la manifestazione incarnata del metodo che io insegno è al cuore di tutte le tecniche che insegno è come se alcuni mancassero sempre dei pezzi qui e lì nelle pratiche utilizzate fino ad adesso ma quello in cui io ti guido è incarnare in maniera genuina reale la tua realtà desiderata e ho passato tantissimo tempo anni per perfezionare questo approccio con tante sperimentazioni su di me quando ti dicono agisci come se act as if quello che realmente significa che tu respiri come la persona che ha già la tua manifestazione e usare delle pratiche mind buddy ti fa entrare naturalmente in uno stato per cui è più facile fare le tue affermazioni ti vengono ti sorgono naturali ed è esattamente ciò in cui ti guido in tutti i miei corsi classi master class master course eccetera ed è anche quello che facciamo in incantesimo la mia nuovissima master class per la tua manifestazione perfetta la versione migliore di te la versione migliore della relazione della tua persona allora se vuoi unirti a me e agli altri fantastici studenti di questa master class ti avviso che a mezzanotte di oggi e il medio price expires sparisce per sempre e poi il prezzo andrà a prezzo pieno ancora fino alla mezzanotte di oggi puoi acquistare l'intera master class a soli 157 euro hai sentito bene dopodiché il prezzo salirà a 297 quindi con tutto il mio cuore ti invito ad approfittarne ora perché questa offerta non tornerà se vuoi veramente portare la tua manifestazione a compimento finalmente con le pratiche giuste e partiamo veramente dalla processazione emozionale come base questa è la master class per te non troverai questo corso i contenuti che condivido tratti dal mio metodo proprietario c'è il metodo main body da nessun'altra parte né in italia né all'estero che cosa stai aspettando ne vale dell'investimento della tua energia del tuo denaro del tuo tempo o vuoi continuare come stai continuando perché se stai guardando questo video chances are è altamente probabile che tu stia ancora facendo fatica altrimenti perché saresti qui con tutto il cuore tu rendi questa occasione al volo afferrala e dia a dia lo stress, il burnout, la manifestazione e manifesta finalmente questa persona e questa relazione una volta per tutte io ti aspetto, ci vediamo alla prossima un bacione da Elena, ciao ciao